Buongiorno da Robes, motociclista scorta al Giro d'Italia. Oggi sedicesima tappa, partenza alle ore 13 e 40 da Bressanone, percorreremo le province di Bolzano e di Trento, passeremo sulla Statale 12, entreremo nella città di Bolzano e di seguito sulla Statale 12, faremo il primo Gran Premio della Montagna, il Passo della Mendola, entreremo nella provincia di Trento, passeremo per la città di Cles, percorreremo la Statale 43, faremo il secondo Gran Premio della Montagna sul Passo della Paganella ed arriveremo verso le ore 17 e 17.30 ad Andalo. Le strade saranno chiuse un'ora, un'ora e trenta prima del transito dei ciclisti e ci vediamo in giro.